Promuovere la cultura di parità di genere attraverso la musica e trasmettere messaggi di inclusione e rispetto. E' anche questo l'obiettivo del Premio Musicale di Parità 2023, prima manifestazione del genere a livello nazionale, che nasce dalla collaborazione tra la consigliera regionale di Nasileo e la consigliera regionale di parità Ivana P. Ponzi ed è stato istituito a seguito della firma del protocollo con l'orchestra sinfonica ICO 131 della Basilicata. La prima edizione si svolgerà mercoledì 21 giugno a Corletto Perticare in occasione della giornata internazionale della musica e celebrerà due figure femminili, entrambe lucane, che si sono particolarmente distinte nel campo musicale. Nasce il Premio Musicale di Parità, istituito oggi, presentato oggi. Nasce da una iniziativa della consigliera regionale di parità effettiva, l'abbocata Ivana P. Ponzi, unitamente alla ICO regionale Orchestra 131 in una conferenza stampa che presenta un protocollo d'intesa. Naturalmente io ho sottoscritto l'iniziativa, ho presentato una PDL che lo istituisce praticamente a livello proprio regionale, quindi lo istituzionalizza, ma ad ogni buon conto in occasione della giornata nazionale della musica internazionale, anzi che si terrà il 21 giugno a Corletto Perticare, consegneremo il primo premio di parità musicale 2023. Noi siamo convinte che anche attraverso la cultura, la musica, si possa sostenere e implementare sempre di più la parità e le pari opportunità per valorizzare quelle tantissime eccellenze al femminile nel mondo della musica.